Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Cieli nuvolosi e locali piogge sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 15 novembre. Deboli piogge al mattino su Liguria, Campania e Sardegna. Variabilità asciutta altrove ma con nubi basse e nebbie anche fitte in Valpadana. Al pomeriggio precipitazioni di debole intensità possibili su Liguria, Alta Toscana e Sardegna, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nottata piogge possibili su Emilia Romagna, regioni centrali, Campania e isole maggiori. Variabilità asciutta sugli altri settori. Temperature minime e massime stazionari o il lieve aumento specie al centro sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano. Al prossimo episodio